Il voto ieri al termine di una lunga discussione. I consiglieri comunali hanno approvato la variazione di bilancio a sera inoltrata. Due milioni di euro per l'acquisto della pista di ghiaccio della SIL che tante polemiche aveva sollevato nei giorni e nelle settimane scorse. 29 i sì, 10 i voti contrari. Sulla necessità della spesa per il mantenimento dell'impianto di Castelnovale, la stessa maggioranza era divisa. I verdi avevano espresso più volte il loro dissenso. Tra i 7 e gli 8 milioni, questo l'importo preventivato per la costruzione di un nuovo impianto e così l'acquisto della struttura esistente ha prevalso. Il Comune ha messo a bilancio l'acquisizione del diritto di superficie della pista da ghiaccio. Una soluzione che scrive la parola fine anche ai problemi di bilancio della società che gestiva l'impianto. Pesanti dubbi rimangono comunque sulle condizioni della strada di accesso al palaghiaccio.